Il 16 giugno scade il termine per il pagamento del primo acconto IMU per il 2020. L'economista Gianni Lepre illustra le novità di quest'anno. Martedì 16 scade il termine per il pagamento dell'acconto IMU pari al 50% dell'importo dovuto per il 2020. Ricordiamo che può essere facoltà dei sindaci spostare la scadenza relativa al pagamento del primo semestre al 30 settembre 2020 senza pagamento di sanzioni ed interessi. Tra le altre cose ricordiamo che la legge prevede l'esenzione per il pagamento dell'IMU per la prima casa ad eccezione delle categorie di lusso cioè quelle catalogate a 8 e a 9. Tra le altre cose il decreto rilancio prevede l'esenzione del pagamento dell'IMU per l'anno 2020 per le attività alberghiere e ricettive svolte comunque dal proprietario dell'immobile direttamente.